Volevo proporvi questa riflessione provocatoria, io e il mio gatto furd, furd, look at that, attaccali all'uomo più ricco del mondo, Elon Musk in questo momento, che in questo istante è tre volte più ricco di Warren Buffett come valore complessivo, ovviamente il valore cambia radicalmente perché lui ha azioni Tesla, SpaceX, se le azioni vanno su è più ricco, se le azioni vanno giù è meno ricco, e va su e giù di, non so, 20 miliardi in un giorno, per cui è insomma una situazione molto strana anche da ogni punto di vista, però la mia provocazione signori della corte e signore della corte è la seguente, che all'uomo più ricco del mondo dei soldi in realtà non gliene frega niente, ma come è possibile direte voi, insomma l'uomo più ricco del mondo spende miliardi eccetera eccetera, ora io non lo so perché non lo conosco, Elon non mi ha mai chiamato, non mi ha mai risposto da me, no insomma non l'ho mai neanche cercato, non ci siamo mai incontrati, non ho la più pallida idea di questo signore che cosa faccia nella vita reale, che persona sia, magari è un serial killer, non lo so, però lo seguo dall'esterno da tempi non sospetti, insomma da tanti anni, da quando era in Paypal in sostanza. E la cosa che mi ha sempre insospettito di questo signore è che nel 2002, quando Paypal è stata comprata da Ebay, lui incassò 165 milioni o 180 milioni, insomma una cifra, non si è mai capito quanto fosse, in realtà lui ha detto 180, poi ufficialmente sembra sia 165, magari aveva dei bonus. Comunque sta di fatto che ha incassato un sacco di soldi, almeno secondo me 160 milioni, 180 milioni sono un sacco di soldi, non sono pochi, magari per Warren Buffett non sono tanti, se 6 milioni non sono tanti, però per un essere umano normale, 160, 180 milioni sono una bella cifretta, che in sostanza ti risolve la tua problematica economica, quando si parla di libertà finanziaria, 160, 180 milioni te lo risolvono, è vero che ci pagherai un po' di capital gain, è vero che insomma due lirette ti restano attaccate e tu sei a posto, te li investi, fai il tuo portfolio investment, un po' di real estate, un po' di crypto, un po' di index stocks, che ci vuoi? E a quel punto tu vivi tranquillo e felice, hai risolto, hai vinto dal punto di vista economico, chiaramente dal punto di vista personale, non si vince mai, si è sempre studenti all'università dell'esistenza, però dal punto di vista economico, Elon nel 2002, diciamo 20 anni fa, festa finita, poteva stare tranquillo in piscina a leggersi Novella 2000 tutto il giorno. E invece, che cosa fa? Elon pazzo furioso, cartone morto Elon, bisogna farlo sto quattro chiacchiere con cartoni morti, quello che fa è imbarcarsi nel fare l'auto elettrica, producendola da zero, e in parallelo fare anche la roba lì spaziale che andiamo su Marte, faccio i razzi che vanno e tornano anche da soli e poi facciamo le robe pubbliche per la NASA con i bandi, un bordello clamoroso. Si imbarca lì e prende i suoi 160-180 milioni e li mette dentro ai suoi progetti. E lui dice, ma che sei veramente fuori di testa? Oppure puoi dire, ah però poi ha lavorato coi soldi pubblici, ha lavorato con gli investitori, assolutamente sì, ha fatto come fa qualunque imprenditore, una raccolta di soldi per cercare di finanziare i suoi progetti. Ma il punto di partenza è, perché un tizio che è già economicamente a posto rischia tutto quello che ha per fare dei progetti che in quel momento erano progetti assolutamente folli? Perché partire a fare l'auto elettrica in un momento in cui l'auto elettrica era un miraggio totale e che il mondo andasse in quella direzione, boh, anche no, era una follia. Prodursela tutta lui in casa, sapendo che questo lavorava in Paypal, faceva commercio elettronico, non era mica un tizio che faceva l'ingegnere auto elettrocoso. No, no, si è messo lì e se l'ha imparato perché è un fottuto genio lui. E lo stesso i razzi spaziali, commercio spaziale, turismo spaziale, se l'è inventato lui, se l'è studiato, se l'ha approfondito. È qualche cosa che ti deve far riflettere. Non è Bezos o Richard Branson, non è uno così. È proprio uno che rientra, secondo me, in una categoria a sé. Altro esempio di questi giorni. Il titolo fa un botto pazzesco in borsa a seguito della notizia, in gran parte a seguito della notizia, dell'acquisto di 100.000 Tesla da parte di Hertz per un valore di un 4 miliardi, una roba del genere. Tutti a stappare un champagne, Elon ancora più ricco, eccetera, eccetera. Che cosa fa? Elia Musk va su Twitter e risponde a un tizio che dice, oh grande fenomeni, andiamo alla grande, dicendo sì sì, però volevo dire che non c'entra nulla con quello che è il robo di Hertz, perché noi non abbiamo ancora firmato, non abbiamo ancora firmato niente, e allora subito la borsa ha detto, ma come l'avete ancora firmato? E il titolo perde in borsa. Ma lui che gli frega? Non è lì per i soldi uno così. Mi sembra talmente evidente, non è quello l'interesse di un personaggio di quel tipo lì, se no, se gli fossero interessati i soldi, faceva proprio altro. Faceva il suo fondo di investimento, investiva in start-up, girava, come hanno fatto miliardi di altri tizi che hanno fatto il loro exit e poi si sono fatti la loro vita. Questo ha un interesse totalmente differente nella natura delle cose. Lo sentite parlare, guardate un'intervista, anche l'ultima, quella all'evento Recode, ai tempi si chiamava così, con Kara Swisher, adesso non mi ricordo più come si chiama, però gli interessa proprio un altro modo di vedere il mondo, gli interessa lasciare un'altra visione in tanti aspetti diversi. Poi, è uno normale uno così? No, cioè, mi sembra abbastanza ovvio che non sia normale uno così. C'ha difetti uno così? Mille difetti. Ha una visione magari totalmente sbagliata, perché dovrebbe prima risolvere il problema del climate change? Tutto quello che volete. Però pensare che Elon Musk sia l'uomo più ricco del mondo e sia solo un bastardo capitalista che pensa sui soldi è ovviamente sbagliato. Non è vero. Poi, adesso, se mi rispondi, Elon, almeno posso anche dare la tua versione di fatti, se no, questa, signori della corte, è la mia provocazione. Fatemi sapere.